Ragazzi benvenuti in questo nuovo video unboxing Ebbene sì ragazzi oggi sono qui nuovamente con un video unboxing di prodotti ricondizionati da Trend Device Sapete che ogni tanto ciclicamente cambio i miei dispositivi ricondizionati ovviamente grazie a loro Gli rito indietro e loro mi danno altri dispositivi da provare per poter fare dei video E quindi ci tengo subito a ringraziare Trend Device perché senza di loro non potrei fare tantissime tipologie di video che vedete nel mio canale Quindi grazie mille ragazzi che credete nel mio canale E ci tengo ovviamente anche a dirvi del mio codice sconto IMATTEO10 per avere sia 10 euro di sconto su un eventuale acquisto sul loro sito O addirittura 10 euro di extra valutazione se vorrete vendere un dispositivo a Trend Device Qua dentro ci sono ben due dispositivi ricondizionati Un iPhone che ovviamente vorrò confrontare con il mio iPhone 16 Pro Max quindi preparatevi a tanti bei video E anche un iPad Una tipologia di iPad che in realtà non l'ho mai provato perché io alla fine ho sempre avuto o iPad Pro o iPad Mini Però altre tipologie di iPad non l'ho mai provate e soprattutto vorrò confrontarla ovviamente con il mio iPad Pro M4 E voi direte un altro iPad? Sì ragazzi tranquilli che l'iPad Pro quello da 13 pollici dell'M1 se ne andrà via quindi questo prenderà il suo posto Quindi ragazzi direi che possiamo girare in inquadratura e aprire questo bel pacco Ok ragazzi eccoci qua siamo pronti ad aprire questo bel paccone di Trend Device Usate un po' il casino perché è un po' grosso sto coso quindi metterlo qua è stato un po' complicato trovare un'inquadratura decente Sto usando l'iPhone in POV spero non si muova troppo Allora qui ho già tagliato quindi direi che dobbiamo andare a tagliare dall'altra parte quindi qua Ho sempre paura anche di farmi male magari potevo prendere una forbice un po' più grossa Però no così mi faccio male Amici di Trend Device forse era meglio metterlo un po' meno stretto Cioè capisco che serva così Proviamo a girarlo Oh mannaggia ho pure l'iPhone davanti non vedo Dai tagliati Mamma mia raga mi stavo facendo male Si è aperto si è aperto il pacco Benissimo grazie molto gentile Andiamolo a sollevare Ok ovviamente c'è sempre la carta solita che andiamo a buttare molto delicatamente per terra Uh già vedo già vedo ragazzi già vedo e soprattutto già vedo il colore che questo qua non lo sapevo e mi piace molto Mettiamo questo e prendiamo anche lui ovviamente ormai già avete capito che modello di iPad è Quindi andiamo a togliere il pacco di Trend Device Sto facendo un casino con la tastiera del Mac Perfetto E butto a terra Non mi sembra ci fosse altro quindi in realtà mi aspettavo questo Allora direi di andare ad aprire lui perché voi ovviamente non sapete il colore e soprattutto il modello di iPhone che mi hanno mandato questa volta Quindi vado a tagliare qua e di qua I sigilli di Trend Device ovviamente così vedete come vi arriva un dispositivo ricondizionato di Trend Device come sempre Tendenzialmente gli iPhone vi arrivano con la confezione di Trend Device mentre gli iPad fino ad ora mi è sempre capitato con la loro confezione originale Penso questo per i dispositivi più recenti poi se andrò a comprare un iPad più vecchio onestamente non so Sono tutte e due di grado massimo quindi come nuovi Andiamo ad aprire l'iPhone ok c'è il cartoncino ed eccolo qua E ancora qui non si capisce bene che modello di iPhone è ma se andiamo a girare Ragazzi è un iPhone 15 Pro titanio naturale 128 GB dovrebbe essere e tra l'altro non è il Max quindi se io vado a prendere il mio iPhone 16 Pro Max Ecco qua la differenza Andiamolo anche ad accendere se si accende ok E' carico beh questo qua secondo me sarà molto interessante perché ovviamente vi farò un video confronto tra i due Sì anche se questo qui non è il Max qui c'è la differenza che non c'è la 5x e va bene però comunque più o meno è quello là Possiamo già vedere la differenza magari delle cornici leggermente però ecco insomma è il solito buon iPhone 15 Pro Che come già vi ho detto nel video di quale iPhone comprare è l'iPhone che vi consiglio di più sia il 15 Pro sia il 15 Pro Max Vi provo a far vedere anche le condizioni che praticamente è come come nuovo assolutamente praticamente come nuovo questo modello di iPhone Anche qua sotto non c'è assolutissimamente problema le fotocamere non hanno anche qui il ben che minimo problema Quindi veramente veramente top anche lo schermo ve lo spengo praticamente non ha assolutamente grafico è sporco quindi veramente veramente al top E ragazzi non vedo l'ora di farvi il video confronto con questo iPhone Bene ora tra l'altro vi faccio vedere nella confezione cosa arriva la spilletta e nient'altro perché se volete potete richiedere ovviamente anche il caricatore e la presa a muro Ma io ovviamente non avendolo chiesta non mi è arrivata Bene direi di andare a aprire forse la cosa che in realtà mi incuriosisce di più che è questo qua Ragazzi lui è l'iPad Air da 13 pollici quindi è quello più grosso infatti se vedete metto la scatola qua è molto più grossa rispetto al mio iPad Pro M4 Voi direte ma cosa ci fai con un iPad Air M2? Ma ragazzi in realtà ormai sto capendo che ho trovato vari utilizzi per i miei iPad Magari se volete vi faccio un video dove vi spiego che senso ha magari avere due iPad oppure due iPhone eccetera eccetera Ovviamente io sono un utente particolare nel senso sono un entusiasta sono un fan di Apple eccetera eccetera Mi piace avere la tecnologia quindi ovviamente riesco a trovare gli utilizzi diversi Se siete persone normali ovviamente non ha assolutamente senso avere più modelli di dispositivi Comunque tra l'altro ho visto già il colore che è quello lì viola Purtroppo è da 138 GB però dai spero che mi bastino su iPhone Tanto è un mio dispositivo secondario può andar bene Allora eccoci qua andiamolo a togliere dalla confezione Ok eccolo qua Allora devo dire che con queste luci non mi sembra viola mi sembra grigio Però magari poi nella recensione nel video in cui ve ne parlo vi farò vedere meglio Ovviamente è molto leggero molto più leggero del Pro da 13 pollici Questo devo dire sì Nella confezione vabbè come se lo comprate nuovo praticamente non c'è nulla In teoria con quello nuovo ci sarebbe il cavetto qua non c'è Ma ovviamente vi ricordo che lo potete richiedere e qua dentro non ci dovrebbero essere neanche Ah c'è la spilletta Ah ma qui nella versione cellular Ma non mi sembra quella cellular Fatemi vedere dietro la confezione Ma non penso sia cell No infatti è solo Wi-Fi Non lo so perché c'è una spilletta onestamente Però va bene E non ci dovrebbero essere neanche gli sticker perché erano stati tolti Infatti quindi niente Comunque andiamola ad accendere Vediamo se si accende Ok è carico anche questo qui Come vedete è molto più grande rispetto all'iPad Pro mio Abbiamo la fotocamera nel lato lungo Quindi anche questo è veramente veramente top Ed ecco qua lo schermo di questo nuovo iPad Air M2 Tra l'altro abbiamo qua il Touch ID invece del Face ID Anche su questo bisognerà vedere anche se sono abbastanza abituato in realtà con l'iPad mini Sotto porta USB-C Ripeto è molto molto leggero Molto molto leggero È più spesso del mio Pro ovviamente perché il Pro è sottilissimo quello dell'M4 Però prime impressioni veramente ottime Veramente ottime Quindi ragazzi Ah non vi ho fatto vedere le condizioni Lo schermo non ha il benché minimo graffio Anche la scocca è perfetta direi Veramente perfetta E anche dietro come vedete come vi ho fatto vedere prima Non ha il benché minimo problema Quindi ragazzi Questo era il video unboxing I prodotti ricondizionati che mi sono arrivati da Trend Device Che ringrazio ovviamente di nuovo tantissimo Perché mi permette di fare tantissimi video Che altrimenti non potrei mai fare tantissimi confronti Quindi non vedo l'ora di farli Non vedo l'ora di aiutarvi magari in una scelta Sia in un dispositivo ricondizionato Ma anche no Quindi veramente veramente ringrazio gli amici di Trend Device Vi ricordo nuovamente il mio codice sconto IMatteo10 E quindi ragazzi Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao 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 Ciao